Allora, ci troviamo con Elisa. Elisa, intanto quanti anni ha lei? 22. 22 anni, sì. È la prima volta che viene alla Scala? No, è simulata 5 anni fa, perché io sono di Torino, quindi vado a Reggio. Una frequentazione. Esatto. Dopo una presentazione come questa, fatta dal professore, che emozione si prova nell'andare a vedere uno spettacolo dopo averne compreso la sua essenza da un punto di vista musicale, da un punto di vista anche, diciamo così, della passione, dell'emozione. Sicuramente la si apprezza di più, perché si capisce meglio la vicenda, la trama, capisci anche cosa aspettarti, ecco. E secondo me è stato molto utile, perché appunto ti introduce al mondo e a quello che stai per vedere non è una scatola chiusa, e completamente buia, e così riesci appunto a capire meglio tutta la vicenda. Grazie. È stato molto utile. Molto utile. Sì. Lo rifaresti? Sì, sicuramente. Cioè io lo consiglio anche più come attività, perché appunto da 22 anni non è che sia super... Cioè chi ha la passione per il teatro quindi è super informato, sogna opera, però io questo esempio non lo conoscevo, quindi per me è stato utilissimo. Grazie.